figurella è un luogo dedicato a noi donne figurella è un metodo validato da oltre 40 anni nasce in svizzera ed è basato su un'attività fisica dolce mirata e personalizzata che si svolge dentro il lettino figurella l'obiettivo di figurella è il dimagrimento ma localizzato nel senso che ogni donna che arriva da noi da me ha un desiderio per se stessa il primo desiderio che mettiamo in evidenza il desiderio di accettarsi di migliorarsi e di piacersi ci sono tante realtà tante diversità che però ci uniscono in un unico obiettivo che è quello a di accettarsi figurella è uno stile di vita un cambiamento anche nell'approccio alla vita quotidiana perché non è fatto solo di privazioni di dieta di rigore ma anche di imparare a lasciarsi andare senza sensi di colpa a volte mi capita di non metterti sulla bilancia perché magari passato un weekend piacevole col marito cena divertimento riposo e non vedo perché bisogna bisogna frustarsi con un aumento di peso che poi è fittizio perché è solo ritenzione idrica e ti porta a malumore durante la giornata per cui evviva la serenità evviva lo stravizio natalizio che attualmente può essere insomma risolto iniziando un piccolo assaggio di figurella del metodo figurella con lo starter kit che prevede cinque sedute a 149 euro chiaramente cinque sedute sono proprio un piccolo assaggio però ci danno già l'idea di cosa possa succedere da figurella grazie a tutti grazie a tutti